Il verbo fare traduce il verbo guidare, ad esempio, Ma traduce anche altri verbi, come ad esempio, il verbo andare, Andare con l'auto, andare in bicicletta, Traduce anche il verbo partire, Questo treno non parte, Viaggiare, Viaggiare in treno, Viaggiare in prima classe, Girare, Girare per il mondo, Passarsi la mano nei capelli, Il verbo fare, come avete visto, traduce svariati verbi in italiano, più di dodici, Ed è difficile memorizzarli tutti, inoltre, quando proverete a tradurre una frase, probabilmente tradurrete fare come guidare, oppure andare, dimenticandovi degli altri verbi, ma questo non è un problema, perché possiamo tradurre fare sempre col verbo guidare, ricordando però che può tradurre svariati verbi, e quindi dalla traduzione letterale ricavare la traduzione del significato. Ad esempio, se traduco letteralmente, dal letto guidare, vado a dare il significato a questa frase, trasformandola in saltare dal letto. Aus dem Bett fahren, saltare dal letto, saltare giù dal letto. Aus dem Bett fahren. Indicativo presente, presenza. Io guido, ich fare, tu guidi, du fest, lui guida, er fett, lei guida, sie fett, noi guidiamo, wir fahren, voi guidate, ihr fett, loro guidano, sie fahren. Il participio passato del verbo guidare si traduce con gefahren. Io ho guidato, ich habe gefahren. Tu hai guidato, du hast gefahren. Lui ha guidato, er hat gefahren. Lei ha guidato, sie hat gefahren. L'ausiliare essere si usa per coniugare i verbi andare, venire e viaggiare. Ad esempio, Peter ist nach Hamburg gefahren. Pietro è andato ad Hamburgo. Io guidavo, io guidai, ich fuhr. Tu guidavi, tu guidasti, du fuhrst. Lui guidava, lui guidò, er fuhr. Le guidava, le guidò, sie fuhr. Noi guidavamo, noi guidammo, wir fuhran. Voi guidavate, voi guidaste, ihr fuhrt. Loro guidavano, loro guidarono, sie fuhran. Futuro semplice, futura eins. Io guiderò, ich werde fahren. Tu guiderai, du wirst fahren. Lui guiderà, er wird fahren. Lei guiderà, sie wird fahren. Noi guideremo, wir werden fahren. Voi guiderete, ihr werdet fahren. Loro guideranno, sie werden fahren. Futuro anteriore, futura zwei. Io avrò guidato, ich werde gefahren haben. Tu avrai guidato, du wirst gefahren haben. Lui avrà guidato, er wird gefahren haben. Lei avrà guidato, sie wird gefahren haben. Noi avremo guidato, ihr wirst gefahren haben. Voi avrete guidato, ihr werdet gefahren haben. Loro avranno guidato, sie werden gefahren haben. Anche nel caso del futuro anteriore, può essere usato l'ausiliare essere, quando il verbo guidare traduce andare, venire e viaggiare. Ad esempio, ich werde gefahren sein. Io sarò andato. Il condizionale presente e il congiuntivo imperfetto vengono tradotti dal coniuntiv zwei. Io guiderei, io guidassi, ich führer. Tu guideresti, tu guidassi, du führerst. Lui guiderebbe, lui guidasse, er führer. Lei guiderebbe, lei guidasse, sie führer. Noi guideremmo, noi guidassimo, via führern. Voi guidereste, voi guidaste, er führer. Loro guiderebbero, loro guidassero, sie führern. Guida, far. Guidi, guidi lui, guidi lei, far. Guidiamo noi, farem via. Guidate voi, fart. Guidino loro, farensi. Attenzione a non confondere il verbo farem con il verbo führern. Anche führern traduce il verbo guidare. Ma traduce anche il verbo condurre e portare. Mi occuperò di questo verbo in un'altra video lezione.